Buongiorno a tutti sono Marco il titolare del Camping Panorama sul San Bartolo qui a Fioranzola di Focare. Volevo ringraziare Rossini TV per l'ottimo servizio che ha fatto. Ho trovato anche dei riscontri molto positivi in quanto tanta gente si è interessata e è venuta a visitare la struttura. Nella maggior parte dei casi gli è piaciuta perché il servizio è stato fatto veramente bene e ha dimostrato proprio tutto quello che io volevo ci fosse in quel servizio. Quindi ringrazio ancora e consiglio anche a qualche mio collega di fare un lavoro del genere che porta soltanto degli effetti positivi.